La figura dell'intellettuale calabrese Mario Lacava al centro di un incontro culturale. Mario Lacava è il suo legame con la città di Reggio Calabria, al centro del volume Lettere da Reggio Calabria, dello stesso scrittore di Bovalino, edito da Nuove Edizioni Barbaro, presentato presso la sala Museo del Ferroviere della stazione di Santa Caterina. Foto d'epoca, scritti inediti, articoli e lettere, tratti dall'archivio della famiglia Lacava. Già presentato lo scorso anno a Palazzo Corrado Alvaro, nell'ambito degli stati generali della cultura, promossi dall'assessorato provinciale alla cultura e alla legalità, il volume torna protagonista di un nuovo appuntamento culturale, promosso dall'associazione Incontriamoci Sempre, in collaborazione con il circolo Reggio Miuli. Alla presenza del figlio di Mario Lacava Rocco, dopo i saluti introduttivi di Marco Mauro e Felice Campolo, rispettivamente in rappresentanza dei due sodalizzi e dell'editore Raffaele Leuzzi, ha conversato sul volume e ha ricordato la figura dell'intellettuale Mario Lacava, il critico letterario Giuseppe Italiano, che ha firmato il saggio introduttivo dello stesso volume. L'incontro si è concluso con la proiezione del book trailer curato da Reggio TV. La Cava ha fatto il liceo qua a Reggio e ha dei ricordi sia di quel periodo e poi anche in un periodo successivo, quando lui è tornato a fare delle lettere, cioè degli articoli per i giornali. Parla di questo Reggio, dapprima la vede come una Reggio lenta, con poche iniziative, poi tornando dopo alcuni anni si ricrede e parla di una Reggio in ripresa. Lei ha conosciuto Mario Lacava, può condividere con i nostri telespettatori qualche ricordo? Era una persona molto umile e faceva della sua umiltà la sua cattedra, spiazzava l'interlocutore intanto nel saper mettersi al suo livello, assecondava quando era possibile e accettava i consigli di una qualsiasi persona di buon senso.